Ora dobbiamo fare un nuovo tipo d'esame. Esame di chi? No, niente di difficile. Io dirò alcune parole. Per ogni parola che io dico, lei dovrà rispondere con la prima parola che le viene in mente. Capito? Ho capito sì. Mica sono scemo. Risponda subito però, senza perdere tempo. Fregna. Prego. Fregna. Ha capito? Ha fregna, no? Beh. Senta, Marazzi. Solo io che faccio le domande, non viceversa. E chi è viceversa? Viceversa non è nessuno. Significa che io faccio le domande e lei risponde. Per esempio, io dico nero, lei mi risponde bianco, senza pensarci. Ci siamo capiti? Eh sì. Ci siamo capiti sì. Oh, meno male. Allora. Allora. Fiore. Fregna. Senta, Marazzi. Se lei ha voglia di scherzare, io non ho tempo da perdere. Ah, perché io sì? Perché io c'ho tempo da perdere? Perché io c'ho voglia da scherzare? Ma non ho capito, dottor. Se da quando mi sveglio la mattina c'ho la fregna qua, ma che cazzo glielevo di scusi? Non so, mozzarella. Eh, va bene. Eh? Allora continuiamo. Eh, eh. Gobbo. Dritto. Colpo. Aio. Corna. Dottori. Cretino. Vaffanculo. Stronzo. I mortacci, tu hai de qua sviolinata le tue moglie Marchettara. Infermieri, presto. Infermieri in cazzo, oh. Io mica son matto. Isolamento, via. Allora, tu, è lei che me fa rosicare? Ma non ho capito. Me fa rosicare perché me lo ha incastrato. Ma io mica son matto, sa. Ma non ho capito.